Beh, innanzitutto buonasera a tutti, grazie per essere qua, magari mi presento brevemente, sono socio di CompiVite da qualche anno, sono ingegnere elettronico, mi sono occupato nella mia vita di varie cose, ho fatto l'ingegnere elettronico per qualche anno e poi mi occupo attualmente di consulenza manageriale, mi sono avvicinato al mondo cripto qualche anno fa, diciamo ormai sono sei o sette anni, avevo lanciato nel 2017 un gruppo di appassionati che si riuniva ogni tanto al Collegio Borromeo per parlare appunto di vari temi, sia di criptovalute ma soprattutto di applicazioni blockchain a diversi ambiti e diciamo nel corso di questi anni ho appunto accumulato un po' di materiale, quello che volevo fare un po' oggi era darvi un'infarinatura sui temi, so che magari qualcuno di voi è molto più addentro a temi tecnici però volevo giusto così fare una carrellata iniziando un po' dai decenni storici e poi darvi un po' di qualche elemento, qualche building block per capire cosa c'è sotto il mondo delle criptovalute. Quindi adesso poi magari qui Dino mi scuserà, ma io purtroppo per deformazione utilizzo molto le slide, quindi diciamo le uso come supporto, poi vi peregho ovviamente di interrompermi, ci sono dei temi che sono anche magari un po' ostici, cercheremo un po' di così anche attraverso l'interazione, vorrei non essere il solo a parlare, quindi anzitutto magari vi chiedo se riuscite a vedere lo schermo, aspettate che vediamo se arriva, c'è un colore veramente assurdo, non so se lo vedete, è un rossastro perché io lo vedo qua, io vedo una cosa un po' strana. Allora diciamo che volevo iniziare un po' con dei cenni storici, diciamo il mondo delle criptovalute è nato ben prima del famoso articolo su Bitcoin di Satoshi Nakamoto, quindi diciamo che già dal 1983 David Chaum aveva appunto proposto dei metodi per separare l'identità delle persone e delle loro transazioni e successivamente il movimento cypherpunk aveva appunto ipotizzato l'utilizzo di pseudonimi, firme a chiave pubblica e proof of war che sono la base dello sviluppo di tutte le criptovalute. Bisogna poi arrivare al 97 perché un ricercatore della Microsoft che si chiamava Voidai ipotizzì l'introduzione di quella che veniva chiamata B-money e contemporaneamente Adam Beck crea appunto attraverso Hashcash il primo algoritmo proof of war che oggi è ancora la base della creazione di moneta digitale. Successivamente nel 2004 Alphinei, grazie anche al lavoro di Nick Szabo e Alphinei insieme uniscono i concetti di Weidai e creano il Bitgold e il concetto di blockchain. Però tutti questi soggetti non avevano ancora risolto uno dei problemi fondamentali delle criptovalute che era quello del double spending, cioè il fatto di essere sicuri che la valuta che io trasmetto a una persona non possa essere spesa più volte. Quindi di fatto nel 2008 nasce questo fantomatico articolo, lì vedete una persona che casualmente si chiama Satoshi Nakamoto, però non è lui. Quindi esiste questo gruppo o questa persona che diciamo crea questo articolo, crea questo articolo che viene chiamato Bitcoin a peer-to-peer electronic cash system nel quale appunto si ipotizzano tutti i building blocks delle diciamo delle valute digitali. Quindi sì, un sistema per firmare le transazioni, un server di timestamping per concatenare le transazioni, quindi la famosa blockchain, il proof of work come sistema di consenso per evitare il double spending e poi l'utilizzo di questa rete peer-to-peer per condividere il ledger delle transazioni per assicurarsi che appunto questo ledger non sia corrotto. E lì vedete appunto il primo blocco, il famoso Genesis block, riporta come timestamp questa famosa frase, Chancellor on Brink of Second Mail for Banks, che è l'articolo del Times, del proprio del giorno in cui è stato minato il primo, il blocco, il Genesis block, il blocco zero. Da allora la blockchain è cresciuta di Bitcoin, è cresciuta di 700.000 blocchi. Adesso poi vedremo qual è la metodologia con cui vengono inseriti i blocchi. Vi chiedo solo se voi la vedete bene, perché io sulla mio schermo lo vedo in ritorno, quindi lo vedo tutto rosso, non so se è normale. Io la vedo benissimo. Ah perfetto, ok. Non so perché un ritorno qua, vedo una roba rossa. Va bene. Allora, una breve storia di Bitcoin. Qua vedete Oscar Wilde che dice insomma c'è un mondo una sola cosa peggiore, far parlare di sé e non far parlare di sé. Quindi se voi andate, una curiosità, se andate su Google Trends e cercate quanto è stato ricercato il termine Bitcoin, vedete questa curva di intensità delle ricerche su Bitcoin che partono appunto dal Genesis block del 3 gennaio 2009 fino al primo tasso di cambio ufficiale che con un dollaro si prendevano 1300 Bitcoin. Addirittura ad aprile una persona ha comprato due pizze con 10.000 Bitcoin che allora valevano 25 dollari. Quindi provate a calcolare adesso quanto, quanto costerebbero quelle due pizze. Poi nascite dei primi exchange, quindi Mt. Gox, poi c'è stata la prima bolla dove c'è stato l'articolo del Time, il primo hacking di Mt. Gox e la prima grande bolla. Tenete presente che l'hacking di Mt. Gox non è stato, non hanno buccato la rete di Bitcoin, hanno semplicemente aperto delle casse forti dove le chiavi private erano contenute sul server. Quindi di fatto hanno semplicemente portato via dei fondi perché sono state accedute delle chiavi private. La seconda grande bolla è stata nell'aprile del 2013 quando Bitcoin aveva una market cap di un billion dollar e c'è stato l'hacking di Bitcoin Central. Poi c'è stata Silk Road, era praticamente un mercato, ancora la persona che ha creato Silk Road, purtroppo ancora in galera. Era un mercato dove si vendeva di tutto, dalle armi agli organi e si pagavano in Bitcoin. Poi c'è stata la bancarotta di Mt. Gox. Ad aprile il 2017 Bitcoin è diventato legal tender in Giappone, poi c'è stata la nascita di Bitcoin Cash, quindi il primo grande di Bitcoin Fork e poi c'è stato un picco intorno appunto al fine di dicembre 2017 quando il picco era di 19.500 dollari, dopodiché poi c'è stato anche lì un'altra bolla. Ovviamente se poi andiamo a correlare l'andamento delle ricerche con l'andamento del legal tender di Bitcoin ci vede un profilo abbastanza simile, no? E questa cosa continua, nel senso che se poi l'andiamo a vedere dal 2018 ci sono anche qui degli altri picchi, delle altre inflazioni. Qua vedete in arancione Bitcoin, in grigietto Ethereum, quindi con le due quotazioni. Vedete sulla sinistra della chart sotto i picchi di Bitcoin, quelli invece di Ether. Però se poi andate a vedere c'è un'altra curiosità che c'è stato un nuovo termine che è diventato abbastanza hype, che è quel discorso delle NFT, dei non fungible token, di cui probabilmente nelle prossime edizioni si parlerà e si vedrà anche come si può creare un non fungible token e capire che cosa ci si può fare. Diciamo perché è stato creato Bitcoin? Allora tipicamente quando si parla di criptografia ci sono sempre Bob e Alice che si parla di problemi di comunicazione, quindi diciamo che Bitcoin serve per risolvere i problemi di comunicazione di Alice e Bob. In sostanza cosa succede? Che Bob vuole trasferire un messaggio ad Alice su una rete pubblica, adesso poi vedremo cosa vuol dire permission, è resistente a censure di enti centrali. Alice vuole essere sicura che il messaggio arrivi veramente da Bob e vuole essere sicura che il messaggio non sia stato alterato e poi Alice vuole essere sicura che Bob abbia mandato il messaggio solo a lei e non ad altre persone, specialmente se questo dice Alice sei la donna per me, ovviamente vuole evitare il double spending. E Bob vuole assicurarsi che Alice abbia ricevuto e accettato il suo messaggio. Detto questo appunto vediamo com'è che cerca di risolvere questo problema Bitcoin. Bitcoin è praticamente una valuta elettronica che viene fatta con una catena di firme digitali, cioè ogni proprietario trasferisce valuta al successivo firmando digitalmente un hash, adesso poi vedremo che cos'è l'hash della transazione precedente e la chiave pubblica del proprietario successivo. Chiave pubblica è l'indirizzo, sarebbe come l'Iban nel mondo bancario. Chi riceve può verificare le firme digitali, il problema è come faccio a sapere che i proprietari presenti non abbiano già speso la valuta che mi inviano, cioè il famoso problema del double spending. O metto una zecca centrale, c'è qualcuno che verifica che effettivamente questa moneta abbia un corso legale che sia stata spesa e quindi ci sia stato un passaggio, che diciamo che la zecca centrale fa un po' la funzione di quello che viene chiamato un escrow account, cioè si assicura che questo legal tender sia stato speso una ed una sola volta. Oppure si fa un broadcast di questa transazione verso un network che a un certo punto deve trovare un accordo, che è esattamente quello che viene fatto con la rete di Bitcoin. A questo punto quali sono i blocchi di base di Bitcoin? Il primo blocco di base è la criptografia, la seconda è questa rete, questa catena di blocchi che conserva il registro di tutte le transazioni, è un ledger, cioè il ledger è il famoso libro mastro, è il mastrino di tutte le transazioni che vengono fatte, che è legato un blocco all'altro appunto con questi codici che praticamente ne impediscono il fatto che venga manomesso. C'è un metodo di consenso e poi c'è un po' di teoria monetaria di giochi che dice che in sostanza la rete dei nodi che mantiene la rete di Bitcoin fa meglio a comportarsi bene perché è molto più vantaggioso che cercare di rompere il giocattolo. Adesso poi entriamo su dei temi anche un po' ostici, però adesso per il momento venitemi dietro, poi magari se avete delle domande ovviamente interrompetemi quando volete. Che cosa sono le hash function? Diciamo le hash function sono delle funzioni, sono dei frullini praticamente, che dato un input arbitrario, hash vuol dire polpetta, praticamente trasformano questo input arbitrario in un output di lunghezza fissa. Ad esempio Bitcoin usa un algoritmo di hash che si chiama SHA256, dove SHA sta per Secure Hashing Algorithm, che ha queste proprietà. La prima proprietà importante è la resistenza alle collisioni. Siccome l'input può essere di qualunque lunghezza, ovviamente non c'è una relazione univoca tra l'input e l'output, cioè nel senso che due input diversi potrebbero avere lo stesso output, proprio perché lo spazio delle soluzioni in ingresso è infinito, mentre lo spazio delle soluzioni in uscita, ancorché enorme, è finito, perché stiamo parlando di 2 alla 256, che è un numero enorme, però è comunque un numero finito. Allora, la collision resistance dice, se io ho due input diversi, è altamente improbabile che gli hash di questi due input siano uguali. E ad esempio, provando con 2 alla 130, cioè cercando 2 alla 130 soluzioni di questo algoritmo, questa proprietà è soddisfatta del 99,8% dei casi. Tenete presente che 2 alla 130 è un numero enorme, cioè per calcolare con la potenza attuale di calcolo questo tipo di hash, ci vorrebbero praticamente 216 miliardi di anni e l'universo noto è 100 volte più giovane, quindi stiamo parlando di numeri molto elevati. L'hiding è una proprietà che dice che dato un messaggio arbitrario, un numero R casuale scelto in una distribuzione di data entropia, non si riesce a risalire il messaggio dall'hash, cioè praticamente dice che questo meccanismo non è invertibile, cioè io non posso, dato un hash di un input combinato con un numero casuale, risalire a qual è il messaggio, cioè per esempio questo processo non è invertibile, cioè se mi date un messaggio, ci metto un attimo a calcolare l'hash, è un po' come il discorso delle password, se vi ricordate nel famoso, per chi conosce Unix, nel file passwd non veniva messa la password, ma veniva messa un hash della password, praticamente una codifica della password, quando uno imputava la password, cosa succedeva? La password veniva ricriptata e si confrontavano le funzioni cript delle password, ma non veniva mai messa una password in chiaro, quindi chiunque può fare una verifica che l'hash funzioni, ma nessuno può invertire l'hash. L'ultima proprietà importante è quella che viene chiamata puzzle friendliness, che è una proprietà molto importante per il mining, cioè se Y è un output di un certo numero di bit, e K è questo solito numero casuale, è altamente improbabile trovare un numero X, tale che l'hash di K combinato con X sia uguale a Y in meno di 2 ln cicli, questo lo vedremo più avanti, c'è un esempio molto chiaro che vi fa capire che il mining serve praticamente a trovare, a fare in modo che i miner ci mettono un certo tempo a risolvere un determinato problema matematico. Il problema matematico si tratta di fare in modo che l'hash del blocco che vogliamo inserire nella blockchain abbia un certo numero di quelli che vengono chiamati leading zero, cioè che praticamente l'hash sia minore di un certo numero, e questo serve appunto per dare una difficoltà alle macchine che faranno questo tipo di messaggio. Qua vedete poi una rappresentazione di che cos'è l'hash, ovviamente il messaggio viene troncato e si fa ricorsivamente una serie di funzioni su questo messaggio in modo tale da avere questa stringa di 256 bit. Questa è la prima funzione importante criptografica che serve per la blockchain di bitcoin. Ovviamente qua, in genere, quando parlo di queste tre proprietà, è l'effetto che ci si confonda. Adesso però cercheremo poi avanti con un esempio di farvi capire che cosa intendiamo con l'hash. La seconda parte importante è la criptografia. Cioè, come faccio a firmare il messaggio? Qui niente di nuovo, perché la criptografia a chiave pubblica privata è qualcosa che esisteva già con l'RPA encryption, quindi non è che sia stato inventato niente di nuovo. Cioè, qui cosa serve? Qualcosa che ci consenta a dire che Bob può firmare i suoi messaggi, documenti e transazioni. Dato un messaggio e la firma di Bob, chiunque può verificare che è stato effettivamente Bob a firmare quel messaggio. E l'altra cosa è che, dato il messaggio e la chiave pubblica di Bob, nessuno può prendere la firma di Bob e firmare un altro messaggio a suo piacimento se non ha la chiave privata. Quindi qua Bitcoin, nel Bitcoin Core ci dà tre primitivi di base che sono, partente la generazione di una chiave pubblica e una chiave privata. Ovviamente la chiave pubblica è quella che le persone danno in giro per dire, se dovete darmi dei Bitcoin, questa è la mia chiave privata, questa chiave pubblica, questa chiave pubblica corrisponde a un determinato indirizzo di un port, quello che viene chiamato il Bitcoin Wallet, quindi l'indirizzo del portafoglio. Esiste una seconda procedura che dice, dato un messaggio, la mia chiave segreta è un messaggio, io posso firmare il messaggio. E poi la terza procedura è quella che consente di verificare la validità della firma. Cioè dice, se io ho ricevuto una transazione da Bob e il messaggio è criptato, io usando la sua chiave pubblica riesco a capire se la firma è valida o meno. Un po' quello che poi succede anche nelle firme digitali, cioè prendeci un certificato che è pubblico, ovviamente il certificato pubblico è associato a una chiave privata, l'unica persona che può firmare con la chiave privata è il possessore della chiave privata e chiunque però può verificare che il messaggio sia effettivamente firmato da chi dice di firmarlo. Adesso non voglio tediarvi su quali sono le modalità con cui viene creata la relazione tra chiave pubblica e privata, viene usata come algoritmo CDSA che praticamente utilizza delle curve ellittiche e dalla public key si deriva l'indirizzo del portafoglio Bitcoin. Qui è un po' quello che vi dicevo sulle procedure di firma e di verifica, cioè ad esempio Alice deve dire mando un bitcoin a Bob, cosa fa? Alice crea un messaggio che è l'indirizzo wallet di Alice, l'indirizzo wallet di Bob è la montare, lo firma con la propria chiave privata e otterrà questo messaggio che è un messaggio firmato, Bob e chiunque nella rete potrà verificare, dato il messaggio che è pretente alla transazione, il messaggio criptato e la chiave pubblica di Alice può verificare se la transazione è valida o meno. Beh, sulla generazione di chiavi private si usano le curve ellittiche, tenete presente che ci sono delle primitive che vi consentono di generare un nuovo indirizzo del wallet e attraverso le chiavi private vengono generate le chiavi pubbliche e dalle chiavi pubbliche attraverso altri algoritmi, un altro hashing, SHA256, poi c'è un altro algoritmo che si chiama RIPEND 160 viene creata una public key che poi dà original bitcoin address. Tenete presente che l'unico modo cioè perdete le chiavi private di un wallet di bitcoin e di fare brute force attack ed è praticamente impossibile, cioè servono delle capacità computazionali e dei tempi che sono improponibili, quindi se perdete le chiavi private di un wallet, il wallet è andato, cioè quindi ci sono horror stories di gente che aveva cominciato a minare nel 2008 e poi ha buttato via il computer e è andato in discarica a cercare di un hard disk per cercare di capire come fare a risalire magari ai propri, non so, magari uno ha minato 50 bitcoin con un blocco e adesso 50 bitcoin sono un po' di soldi, quindi... Ecco, con gli asco cosa possiamo fare? Possiamo costruire questo registro di transazioni a prove di contraffazione, la famiglia rata blockchain, cioè la blockchain appunto questo viene definito un ledger distribuito di trasferimenti di asset digitali firmati dove un meccanismo di consenso assicura che le transazioni siano corrette e che gli asset non vengono spesi due volte. Cosa succede? Che ogni blocco della blockchain infatti contiene un header e il blocco successivo contiene il lashing del blocco precedente, quindi ogni blocco è legato a doppia mandata con i blocchi successivi, quindi se una un falsario vuole truccare le transazioni di un blocco andrà a corrompere il ledger del blocco perché la merc route risulterà corrotta, così il ledger del blocco e ovviamente andrà a corrompere anche i blocchi successivi, quindi chiunque voglia fare un hacking dovrà essere più rapido della rete dei miner a cercare di ricostruire la storia perché la rete dei registri ovviamente crede solo alla blockchain più lunga che viene condivisa. quindi se combino tutti i dati in un blocco corrompo tutti i successivi e quindi tutta la blockchain allora la cosa non funziona se c'è solo una copia della blockchain in giro perché potrei essere io il contraffattore e dico questa qua è la blockchain e quindi cosa succede? Per fare questo dobbiamo condividere il ledger con altri modi della rete cioè se abbiamo un centralized ledger cioè c'è solo un registro c'è una banca che ha registro il client della transazione lo può fare solo lei se invece andiamo in una architettura distribuita e stabiliamo un meccanismo di consenso un ente centrale non è più necessario perché i nodi possono collaborare al funzionamento qua ho messo così il parallelo è che uno è Napster e l'altro è BitTorrent mentre in Napster c'era un server centrale in BitTorrent chiunque è un ente della rete che può condividere un pezzo di informazione diciamo che Bitcoin quello che fa è implementa come algoritmo di consenso la proof of work che praticamente vuol dire mettere a distribuzione hardware e potenza di calcolo quindi spesa in energia per implementare quello che viene chiesto è chiamato un Byzantine Fall Tolerant Mechanism cioè si parla del problema dei generali bizantini dove ci sono questi generali che devono mettersi d'accordo su quando attaccare quindi siccome non hanno un meccanismo di segnalazione ognuno manda agli altri messaggi sull'orario dell'attacco e si crede al maggior numero di informazioni ricevute cioè se ovviamente uno dice magari d'accordo con la città sediata dice ma attaccate alle 5 di mattina che tanto non c'è nessuno e invece tutti gli altri dicono attacchiamo alle 9 quando siamo tutti insieme magari l'unico che attacca alle 5 da solo viene massacrato quindi in pratica se la maggioranza di no di coopera per produrre la più lunga catena affidabile tutti gli attaccanti fraudolenti vengono praticamente messi in break list cioè chiunque cerchi di dire che la verità è un'altra viene break list quindi cosa succede che si crea questa rete di nodi qui vedete ad esempio una rappresentazione grafica della rete di nodi di bitcoin c'è anche la possibilità di vedere la live se riesco a switchare sullo schermo un attimo si può vedere dov'è che è andate su questo sito che trovate sotto vedete esattamente la la rappresentazione live del della mappa quindi c'è questo algoritmo di peer discovery che vi fa vedere esattamente chi sono i nodi della rete di bitcoin che sono al momento raggiungibili ci vi dice anche le tipologie di algoritmi di consesso che utilizzano cioè dove siamo arrivati qua ad esempio dice che al momento sono stati minati 722 mila blocchi dal dal primo gennaio quindi c'è una rappresentazione e anche del diciamo di quale release di bitcoin core viene viene fatta girare dei vari nodi questo è uno dei pezzi bitcoin core è proprio il peer discovery che serve appunto a sapere chi è che al momento ha una coppia del ledger attiva tenete presente che i nodi possono accendersi e spegnersi a piacere perché la rete è molto ridondata stiamo parlando di 14 mila nodi e chiunque si colleghi in un secondo momento può tranquillamente andare a prendere l'ultima coppia del ledger perché crederà a quella che è la coppia del ledger più lunga esistente spero di non avervi perso fino adesso datemi magari conferma che siete ancora vivi ancora vivi ancora vivi vai allora vado avanti vai allora vediamo un po' come funziona l'algoritmo di consenso proof of work allora abbiamo detto che c'è bisogno di un di un meccanismo costoso per raggiungere il consenso nel contempo che questo algoritmo costoso però debba essere in qualche maniera ricompensato allora cosa succede che bitcoin ha pensato anche un modo per garantire quello che viene chiamato signoraggio cioè il fatto del diritto di emettere moneta che venga in qualche maniera ricompensato a chi partecipa in maniera diciamo positiva alla creazione del consenso allora abbiamo due categorie di nodi quelli che abbiamo visto prima che sono i full nod che sono praticamente validano i blocchi cosa vuol dire validare i blocchi verificare che ogni blocco sia consistente che l'hash del blocco sia correttamente scritto nel 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 header del blocco verificare che il che ci sia una consistenza delle transazioni quindi che le transazioni siano correttamente firmate e che i fondi siano disponibili quindi verificare qual è la capienza del wallet che dice di voler dare dei bitcoin e però non vengono in questa fase non vengono ricompensati invece ci sono quei nodi che definiamo mining nodes che in aggiunta cercano di risolvere il proof of work e se ci riescono prendono una ricompensa che oggi è di 6,25 bitcoin quindi ogni blocco che viene immesso c'è una la prima transazione che vedete scritta è la coinbase cioè la coinbase è quella transazione in cui dice io sono il miner che ha emesso che ha immesso questo blocco nella blockchain ho diritto a ricevere la ricompensa la ricompensa oggi è 6,25 bitcoin tenete presente che originariamente era 50 poi c'è un meccanismo di inflazione controllata per cui ogni 4 anni c'è quello che viene chiamato halving cioè quindi la ricompensa si dimezza perché diciamo che quello che si vuole raggiungere è avere al massimo una quantità asintoticamente limitata di bitcoin in circolazione nel nostro caso con questo algoritmo si raggiungono 21 milioni di bitcoin oggi siamo a circa 19 se non erro e l'altra cosa che i mining notes fanno è anche quello di votare le decisioni per gli aggiornamenti quindi se qualcuno dei programmatori di bitcoin che tra l'altro è pubblico se voi andate su github lo trovate c'è una rete di collaboratori che sono alcuni molti full time alcuni che part time e ogni volta che ci sono delle proposte di miglioramento dell'algoritmo queste proposte vengono votate dai miner vediamo come funziona il proof of work praticamente cosa succede che i miner cosa fanno prendono da quello che viene chiamato mempool che è una memoria di transito tutte le transazioni che sono state sono in attesa di essere approvate e messe nella blockchain prendono ovviamente prenderanno le transazioni che convengono di più quindi quelle che hanno una un reward quindi una feed di transazione più elevata le assemblano per cercare di riempire il blocco generano quello che viene chiamato nonce che è un numero casuale e poi cercano di risolvere l'algoritmo cioè l'algoritmo dice devi trovarmi quella proprietà che dicevamo prima quella del diciamo della puzzle friendliness cerco di trovare un numero nonce che faccia in modo che l'hash del nuovo blocco abbia un certo numero di leading zeros e questo numero di leading zeros è fatto in funzione della difficoltà perché metto una difficoltà perché se io metto più potenza computazionale ovviamente ci metterò di meno però siccome io voglio controllare il tasso di immissione di moneta nell'algoritmo devo fare in modo che un blocco venga emesso in media ogni 10 minuti quindi cosa succede che se i miner ci mettono di meno perché nel contempo la potenza di calcolo è cresciuta la difficoltà verrà incrementata se invece i miner ci mettono di più perché qualcuno ha spento magari si è messo a minare qualche altra cripto perché conveniva di più o banalmente perché gli è arrivato lo stato cinese gli ha detto basta mining ti stacco la corrente e ovviamente la difficoltà viene adeguata per fare in modo che ci sia questo tasso di emissione ogni 10 minuti una volta che questa gara viene vinta c'è qualcuno comunica che si ho trovato nonce che risolve l'algoritmo viene viene fatto un broadcast per cui dice sono io il miner che ha vinto e questa cosa metterò come prima transazione la coinbase per cui dico il mio indirizzo del mio wallet e mi attribuisco la coinbase quindi le 6,25 più tutte le ricompense di mining che mi arrivano vedete bene che è conveniente fare questo lavoro perché ogni 10 minuti qualcuno si accaparra 6,25 bitcoin quindi ai corsi attuali sono circa 270.000 dollari e ovviamente non avrebbe senso che qualcuno di mining si mettesse a cercare di correre contro gli altri per cercare di rivedere la storia del passato perché è più conveniente comportarsi bene che cercare di rompere il giocattolo ora i miner come sono fatti questa qua è una mining farm come vedete sono dei rack di macchine che fanno lo stesso tipo di calcolo tutto il tempo cercano appunto di risolvere questo problema qui avevo messo una macchina abbastanza vecchia perché è una presentazione di qualche anno fa questa macchina faceva 16 terash al secondo costava circa 2300 dollari e consumava 1400 watt si ripagava in 86 giorni oggi le macchine sono fatte così cioè sono macchine che hanno praticamente il triplo del consumo energetico però sono 10 volte più potenti perché riescono a calcolare 198 quel tipo di terash al secondo cioè veramente riescono a fare 198 gigatera sono 10 alla 12 hash al secondo sono delle macchine degli ASIC che fanno stupidamente solo quel conto cioè riescono a fare solo hashing sono degli ASIC ci sono aziende che praticamente sono nate e che creano tonnellate di questo hardware che dopo pochi mesi diventa diventa obsoleto e quindi praticamente c'è un sito che vi dice sia quanto consuma e quanto inquina la rete di bitcoin perché oggi la rete di bitcoin è in consuma come la penso come la Thailandia e ha delle emissioni che sono paurose perché ovviamente stiamo parlando di calore e energia elettrica che viene consumata e anche l'efficienza di transazione è veramente irrisoria se andiamo a prendere c'è un sito adesso poi se volete ve lo faccio vedere che vi dice qual è l'impatto di Gconomist di Gconomist vi dice qual è l'impatto energetico di bitcoin è una roba paurosa cioè questo vi fa vedere praticamente qual è la potenza di calcolo e qual è il consumo stimato siamo a 200 teravattora all'anno che adesso forse è il consumo anche dell'Italia perché l'Italia anzi l'Italia forse l'anno scorso con il lockdown abbiamo fatto 180 teravattora quindi questo è il consumo prospettico della rete di bitcoin qua ci sono anche le milioni di tonnellate di CO2 97 forse la forse la Lombardia Lombardia e Piemonte insieme l'electroning waste che si crea ci sono 32 mila tonnellate di di electronic waste che viene creato perché ovviamente queste macchine una volta che sono sono diciamo dopo i primi 6-9 mesi diventano praticamente non più economicamente convenienti perché sarà uscito il nuovo hardware che è più efficiente e che riesce a calcolare questi hash in maniera molto più efficiente ecco la capacità di mining è distribuita fino a pochi anni fa anzi fino a metà dell'anno scorso c'era molto Cina poi la Cina ha fatto un ban e quindi appunto adesso c'è il Digital Yuan che è stato lanciato in occasione delle Olimpiade Invernali quindi probabilmente è stata anche una mossa per cercare di lanciare una propria criptovaluta digitale semplicemente però poi la potenza di calco si è spostata in altri altri countries tipo gli Stati Uniti avete presente che adesso Bitmain fa praticamente dei container quindi uno può prendere delle macchine da mining le può spostare quando poi il costo di energia non consente più di minare in uno stato o nell'altro può andare in Kazakistan piuttosto che in Russia quindi diciamo che le macchine seguono le diciamo gli stati che ovviamente consentono di fare il mining ecco questo qua è un po' l'esempio che volevo farvi vedere perché questo diciamo tutti quei temi che abbiamo detto prima su come funziona l'hashing come funzionano le blockchain è molto ben rappresentato da questo sito che potete tranquillamente visitare in autonomia e praticamente qua vi fa vedere il discorso dell'hashing allora l'hashing praticamente voi vedete mettendo un qualunque una qualunque stringa viene fuori l'hashing della stringa che mettete la prima proprietà è una cosa che viene chiamata effetto valanga anche una piccola variazione dell'input causa un effetto totalmente cioè l'output è completamente diverso dall'input non vi dico di provare a cercare di trovare due string che abbiano lo stesso hash perché è praticamente impossibile né di cercare di invertire anche qui ovviamente è stato fatto proprio per evitare che le cose vengano invertite ecco tenete presente che se voi volete mettervi ci sono dei siti che ad esempio fanno un calcolo randomico data una chiave pubblica random chiave private random genero la chiave pubblica e poi vado a verificare se quel wallet per caso ha capienza o meno quindi rispetto a bucare una banca dove per bucare la banca dovete accedere ai server centrali qua è possibile bucare la banca se voi trovate una chiave privata che a caso vi dia un indirizzo di un wallet che abbia capienza potete tranquillamente portarvi via i bitcoin però è ovviamente è altamente improbabile che ci riusciate non è impossibile però ecco discorso del blocco allora questa blocca adesso è verde perché soddisfa il fatto che appunto la difficoltà sia soddisfatta ad esempio in questo caso la difficoltà è voglio avere un numero di quattro leading zeros nell'hash se io scrivo qualunque altro tipo di messaggio questo blocco diventa rosso a questo punto lo devo minare cioè devo trovare questo numero nonce cioè lui cosa farà tenterà di trovare un numero nonce che mi dia un certo numero di leading zero adesso tra l'altro se voi provate con quattro leading zero se io batto a caso un certo numero di caratteri ogni 16 mediamente dovrei trovare un verde perché quel nonce lì dovrebbe darmi adesso no forse la difficoltà è un po' più alta sarà un po' più alta lì in teoria ogni top dovrebbe capitare che questo nonce vada bene per avere quel numero di leading zeros adesso forse hanno aumentato la difficoltà perché si vede prima era era un po' più bassa comunque diciamo che il mining è proprio questo effetto di calcolo di un numero casuale che assieme al mio messaggio mi dia un numero di leading zero tenete presente che nel caso del mining del blocco questo blocco conterrà un header conterrà tutte le transazioni firmate che voglio metterci e quindi poi i miner cosa faranno lanceranno la ricerca di un numero casuale che mi dia che soddisfi questo numero se andiamo a vedere questo discorso della blockchain appunto adesso questa blockchain è una blockchain valida nel senso che cosa abbiamo qui ovviamente sono vuoti i dati abbiamo il blocco precedente non esisteva perché il genesis block quindi è zero questo hash qua è riportato anche nel blocco successivo se vedete questo numero uguale a questo e questo uguale a questo ora se io corrompo la blockchain nel senso che vado a correggere una delle transazioni tutta la blockchain viene corrotta perché praticamente questo hash è diverso e non soddisfa più la condizione che abbia i 4 lini in zero quindi per per rendere questa blockchain valida devo minare questo blocco e quindi a questo punto questo blocco avrà i 4 lini in zero sarà valido però a questo punto questo hash qua viene copiato qua per rendere valido questo blocco devo minare questo e devo minare questo quindi chiunque voglia andare a corrompere la blockchain mettiamo che voglia corrompere non so una transazione che è venuta 4 blocchi fa dovrà avere una potenza di calcolo superiore a quella di tutta la rete di bitcoin perché dovrà minare il blocco meno 4 meno 3 meno 2 meno 1 e dovrà farlo più rapidamente del resto dell'universo perché nel frattempo gli altri miner stanno minando il blocco 1 il blocco 2 il blocco 3 perché la rete va avanti quindi per riuscire con successo a craccare la rete bitcoin bisogna avere quello che viene chiamato il 50% plus 1 attaccio devo avere una potenza di calcolo che sia superiore della metà della rete è praticamente improbabile perché oggi avere appunto 100 milioni di terash al secondo vuol dire aver investito diversi miliardi di dollari quindi non è propriamente conveniente in più il fatto di averlo distribuito vuol dire che se lo stesso registro è replicato più volte su più server nel nostro caso sono 14.000 quindi chiunque voglia andare a corrompere un blocco avrà praticamente una blockchain che è l'unica rispetto alle altre 14.000 che sono invece in ordine quindi diciamo questo questo sito qua è molto carino perché vi fa capire come funziona appunto il discorso del proof of work l'hashing ovviamente non ci sono le transazioni però forse nella parte tokens sì qua ad esempio nella parte tokens c'è simulata la possibilità di avere delle transazioni quindi ci sono un certo numero di transazioni con l'ammontare e col messaggio che nella parte data invece che esserci dei numeri casuali ci sono semplicemente degli indirizzi di wallet e l'ammontare della transazione quindi se ad esempio dico guarda no darsi a bing no ci ho ripensato invece di 25 e gli addosso il 5 a questo punto ho corrotto questo blocco lo devo minare di nuovo minerò anche questo minerò anche questo però cosa succede che io poi ho una blockchain che è questa che ha una transazione a 5 dollari qua e è un certo numero di hash e che poi questa questa blockchain qua sarà diversa dalla maggioranza delle altre quindi non è più credibile questa blockchain cioè chiunque abbia fatto questo forging non nessuno gli viene dietro perché dice ma guarda com'è perché tu sei l'unico che ha una blockchain diversa noi abbiamo 14.000 che dicono tutta la stessa storia quindi o ti adegui o sei blacklisted e nessuno ti darà più retta questo è un po' il concetto ok ecco parlavamo prima del discorso della riserva in circolazione diciamo che l'algoritmo ogni 4 anni mediamente c'è un albi adesso c'è un viene minato un blocco ogni 10 minuti come dicevamo se i money sono troppo veloci la velocità viene incrementata se sono troppo lenti viene ridotta e il calcolo per capire se la difficoltà deve essere cambiata viene fatto ogni 2016 blocchi quindi mediamente ogni 2 settimane il metodo di inflazione è che c'è una ricompensa di blocco che si dimezza ogni 210.000 blocchi 210.000 blocchi se fate il conto sono in media 4 anni oggi in media siccome ci sono stati già 3 halving siamo a 6,25 quindi ogni giorno la rete di bitcoin distribuisce l'equivalente di 38 milioni di dollari e questo questo algoritmo si vede facilmente che converge a 21 milioni di bitcoin se noi guardiamo i blocchi che si minano in 4 anni sono 210.000 la ricompensa è di 50 più 25 è di 5 più 6 25 più eccetera eccetera e questo numero è 50 per la sommatoria di un mezzo la i che converge a 100 e quindi il total reward è solo 21 milioni a me piace vedere anche un parallelo molto interessante che se andiamo a vedere quanto oro è stato estratto dalla terra in totale possiamo riempire un cubo di 21 metri di lato che non è tanto in effetti sono qualche piscina olimpionica però questo vi dà già un'idea che a che cosa può essere assimilato bitcoin non tanto a un mezzo di transazione ma più a una riserva di valore quello che viene chiamato oro digitale ecco se dovessimo poi c'è il famoso teorema se un alieno dovesse venire sulla terra e gli dite gli fate vedere le tre cose dice guarda questa è la moneta fiat quella che viene chiamata appunto moneta fiat quindi i dollari gli yen gli euro possono essere stampati a piacere cioè ogni stato può stamparne quante ne vuole non ha un valore intrinseco perché è un legal tender è costosa a trasportare ha un'autenticità che è basata su processi di stampa e ha una governa centrale sono le banche centrali che decidono quanto stampare in funzione di un potere d'acquisto che viene controllato con un approccio vixelliano e ha un possibile ciclo di vita cioè le monete pre euro sono morte cioè oggi le lire le trovate sul catalogo Bollafi però hanno un ciclo di vita l'oro per conto è scarso in natura ha un valore intrinsico è pesante difficile da trasportare non può essere contraffatto e per molti secoli è stata la moneta internazionale di riferimento è sorpassato come mezzo di pagamento cioè nessuno penserà di pagare qualcosa con l'oro ma non è obsoleto come riserva di valore il bitcoin analogamente è scarso per l'algoritmo perché ci saranno 21 milioni di bitcoin in circolazione non ha un valore intrinseco perché il suo valore dipende dalla legge dalla domanda d'offerta non ha una governance centrale non può essere contraffatto e oggi è la moneta la criptomoneta più di successo quindi se un alieno dicesse ma cosa assomiglia di più bitcoin di sicuro non assomiglia alla moneta fiat forse assomiglia molto di più all'oro vabbè succedendo di bitcoin core questo è un po' se volete capire come funziona bitcoin uno dei libri più belli è quello di Antonopoulos che ha fatti due molto belli uno è master in bitcoin e l'altro è master in ethereum vi dice praticamente vi descrive che cosa sono i componenti di base di bitcoin quindi c'è un peer discovery che è quello che ricerca gli altri nodi sulla porta 8333 c'è un connection manager che gestisce le remote procedure call e si interfaccia con i wallet le transazioni i blocchi ci sono delle remote procedure call che sono un centinaio di comandi che possono essere inviati ai nodi sulla porta 8332 ad esempio dammi le transazioni dammi un nuovo indirizzo fai il dumping della private key eccetera eccetera quindi sono tutta una serie di chiamate che si possono fare tenete presente che bitcoin non è touring complete vedremo la prossima volta quando parliamo di ethereum vedremo che si possono fare molto più cose con ethereum bitcoin è un po' limitato ci sono i colored coin però non si possono cioè è molto più difficile implementare degli smart contract quindi il main pool è il limbo delle transazioni che non sono ancora state processate quelle che dicevamo da cui i miner attingono per creare il nuovo blocco e poi c'è un validation engine che sono due script che validano le transazioni e uno storage engine che memorizza gli header i blocchi e i coin poi se andate a vedere sotto il github c'è proprio tutta la descrizione per niente questi blocchi sono dei pezzi di codice di bitcoin ecco è l'unica criptovaluta bitcoin ovviamente no oggi bitcoin come dominanza ha il 42% la capitalizzazione di tutte le cripto è di circa 1950 miliardi di dollari e ci sono più di 1500 tra coin e token qua questa è una rappresentazione molto interessante che fa coin360 io oppure un altro bel sito coinmarketcap per sapere appunto come vanno le varie criptovolute poi se volete capire il perché per come alcune cripto vanno in su vanno in giù potete guardare su coin desk ci sono moltissimi articoli che vi dicono ad esempio ripple che ha vinto una causa contro la secca quindi ripple prende di nuovo piede piuttosto che bitcoin magari va giù perché appunto la Cina fa il ban e quindi uno dei grossi stati che l'ha supportato viene meno quindi ci sono diversi motivi per cui le cripto vanno su e giù qui la domanda è una bolla la bolla c'è un effetto novità c'è la famosa FOMO quindi la fear of missing out la paura di essere tagliati fuori ci sono dei prezzi che non sono spiegati fondamentali ci sono delle aspettative disattese se andiamo a vedere nella storia ci sono state tantissime bolle dai tulipani al Nikkei alla South Sea Company fino allo sboom delle dot com se diciamo che se è una bolla non è la prima ci sono già state tantissime bolle no? quindi bitcoin ha avuto dei massimi e poi dopo è scesa però la cosa interessante è che il valore piccolo non è mai sceso tutto il valore che aveva dopo il collasso della bolla precedente quindi di sicuro ci saranno altre bolle però è comunque una riserva di valore interessante da andare a proseguire poi non so se l'hai anticipato già già Dino prima ovviamente siccome il mercato è molto volatile è un mercato dove se uno investe lo deve fare con dei fondi che che può decidere tranquillamente di fare a meno come quando si va al al casino con solo con con 50-100 euro e poi si dice ok ci gioco vediamo come come va a finire poi investirci diciamo che disinvestire nella casa per investire in bitcoin è una cosa abbastanza da 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 scelerati poi magari qualcuno mi dirà ma no io ci ho fatto un sacco di soldi però ci sarà anche gente che che è andata in bancarotta quindi stare molto attenti soprattutto anche riguardo delle altre dot coin shitcoin vari che esistono dove se guardate sui canali telegram ci sono anche degli scam perché appunto si dice qual è il which coin to pump si dice si smette d'accordo si pompa il coin e si fa il pump and dump quindi non è niente di nuovo si decide con pochi soldi di muovere una moneta finché va su va su e poi dopo a un certo punto si dice ok usciamo e chi e chi non è uscito d'accordo con gli altri rimane col cerino in manso altri temi ecco non sarà l'ultima bolla qua ad esempio il discorso che la capacità di calcolo continua continua a crescere cioè mediamente cioè qua era una slide vecchia diceva praticamente la capacità di calcolo nonostante lo boom del 2018 continua a crescere al ritmo di 5 tascia al secondo al mese adesso siamo arrivati a 14 cioè oggi se andate a vedere la curva di crescita della potenza di calcolo mediamente ogni mese si aggiungono altri 14 attach di capacità di calcolo vuol dire che comunque c'è un'industria che ci crede altamente che appunto è un'industria di mining diciamo che più o meno per oggi come temi ne abbiamo coperti tanti c'è un tema interessante che appunto il discorso dell'hardware che però forse avrebbe la pena poi di farlo quando parleremo del mining capire anche un po' l'evoluzione della tecnologia ovviamente nel mining c'è stata un'evoluzione notevole perché si è passato da diciamo da Zabo e Satoshi che minavano i primi bitcoin con le CPU poi si è passato gli FPGA e poi via via si va verso gli ASIC sempre a dimensioni canale molto più limitate anche lì i costi le revenue ovviamente negli anni sono diminiti perché appunto c'è sempre più potenza di calcolo è sempre più difficile partecipare a questi mining pool però magari sul mining lascio poi la parola a non so se la Dino che poi avrebbe fatto parlato di questo tema sì esatto la parte del mining la vedremo tra qualche martedì dove sicuramente faremo una panoramica un po' così un po' partendo da investimenti tutto sommato accessibili per tutti però vedi Alessandro è stato molto interessante quello che ci hai raccontato finora perché ci siamo resi conto un po' tutti almeno questo è il mio punto di vista che il bitcoin non è solamente quel giochino che uno dice ci metto dentro dei soldi poi vedo se sale li vendo e ci ho fatto dell'utile se scende un po' piango perché insomma ho fatto un investimento sbagliato cioè sotto al cofano è una macchina estremamente più complessa e quindi ora che abbiamo cominciato a capire un attimino quanto è complesso appunto e complicato questo sistema probabilmente tutti lo cominceranno a guardare con un pochino più di rispetto insomma non è più come quando uno prima diceva investo nella sterlina nel franco francese o nel marco tedesco perché so che questo sale questo scende e poi a distanza di otto mesi hai visto una fluttuazione del 7-8% no qui le fluttuazioni del 7-8% sono quasi quotidiane e quindi ci sono dei movimenti estremamente più fluidi più veloci e tutto sommato mi è piaciuto molto quello che tu ci hai fatto vedere oggi perché hai squarciato il velo dell'ignoranza che nella maggior parte delle persone hanno e affrontato anche temi matematici decisamente complessi che ci fanno capire come questo sistema si appoggia su sostanzialmente delle fondamenta molto solide molto interessanti non è un giochino così nato per caso e a chiudere questa questa mia prima domanda volevo chiederti dacci un'idea di che cosa può costare oggi minare un bitcoin come investimento iniziale c'è uno che volesse prendersi una mattonella come quelle che ci hai fatto vedere tu a spanne quanti soldi ci mettiamo e che ritorno dall'investimento ci si può aspettare ma allora se volete un parere spassionato minare bitcoin forse può non avere senso nel senso che mi ricordo c'era un sito che forse era which coin to mine c'era un sito adesso non me lo ricordo però mi ricordo che c'era un sito che diceva in funzione dei valori qual era il coin che era più conveniente minare tenete presente che io vi ho parlato di proof of work e di SHA256 se andate a vedere il sito coin360 vi dice esattamente qual è l'algoritmo di mining che viene utilizzato per le diverse cripto quindi se andate su coin360.io vedete che qua sono sviluppati per ambito ad esempio gli SHA256 sono tutti qua dovrebbe esserci qua non so perché non si veda bitcoin cash però ad esempio qua ci sono tutti quelli che usano etash altri algoritmi tipo Polkadot RPCA quindi in funzione del tipo di algoritmo di script si può usare un hardware di tipo diverso ad esempio tutti quelli che usano script tipicamente dovrebbero essere ASIC resistant anche se in realtà hanno fatto dell'hardware anche ASIC anche per lo script ad esempio Ethereum non usa lo SHA come algoritmo di mining ma utilizza uno script quindi è molto più complicato non abbiamo parlato ad esempio magari ne parleremo la prossima volta agli orphan block del fatto che ci siano appunto dei a parte gli hard fork che non abbiamo definito che cosa sono c'è l'hard fork è quando tu praticamente decidi di selezionare un protocollo diverso e praticamente crei due diverse blockchain quello che è successo ad esempio tra Bitcoin Bitcoin Cash o Bitcoin Satoshi Vision ci sono stati gli hard fork lo stesso sulla rete Ethereum c'è stato un hard fork quando hanno bucato la DAO si è creato l'Ethereum e l'Ethereum classic poi ovviamente ha vinto Ethereum perché l'Ethereum classic non so neanche più dove si è finito qua dentro quindi diciamo che la dimensione poi del rettangolo è una dimensione della market cap del coin però per rispondere alla tua domanda c'era un sito che ti diceva in funzione del costo dell'hardware del valore della cripto e anche della probabilità di diciamo di partire perché poi alla fine non è che tu ti metti a minare da solo tu ti metti a minare cosa fai prendi il tuo miner e lo iscrivi a un mining pool perché in questa maniera il mining pool vincerà la corsa contro altri mining pool e ti dice ok tu hai partecipato per un millesimo di potenza di calcolo al mining ti becchi un millesimo del reward cioè quindi diciamo che il reward arriva un po' più di frequente se tu prendi un bitmain e ti metti da solo a minare è altissima probabilità che non ti ritornerà mai l'investimento perché è difficilissimo che con 5 mila dollari di macchina tu possa guadagnarci l'altra cosa che devi tenere in considerazione è che a meno che tu abbia che tu attacchi il miner all'elettricità del tuo dormitorio universitario quindi non paghi tu l'energia il mining è costoso perché comunque l'energia che si usa è molto rilevante quindi le considerazioni che devi fare sono appunto su il diciamo la l'opportunità di minare una cripto che magari qualcuno non stia considerando con dell'hardware che riesce ad accapararti a buon prezzo ma soprattutto avere la possibilità di approvvigionare una fonte di energia a bassissimo costo quindi se anche dici ok magari i pannelli ok ma anche l'energia ai pannelli costa perché comunque ancorché tu sia in grid parity sei comunque in Italia dove comunque il costo di energia è ancora molto molto elevato diverso sarebbe se fossi in Islanda o in Francia dove hai il nucleare allora forse forse non verrebbe però diciamo che sì se lo fai per così per come prova come esperimento interessante guadagnarsi dei soldi devi investirci tanto perché ci sono delle soglie mini c'è una barriera di entrata rilevante anche prendere un solo miner ha poco senso perché devi comunque fargli un environment per raffreddarlo e cioè tipicamente questi miner non so li mettono in zone molto fredde dove possono essere anche magari ventilati naturalmente quindi poi sul mining si può aprire un capitolo a parte l'altra cosa forse la cosa interessante è tenere presente che il proof of work non è l'unico algoritmo di consenso perché esiste il proof of stake che praticamente vuol dire mettere a staking della cripto e se tu ti comporti bene ricevi come se fosse un bot se tu metti a stake delle cripto ti danno degli interessi perché se tu ti comporti male quello che hai messo a stake viene escusso quindi viene tolto dalla circolazione proprio bruciato quindi è un meccanismo fammi dire poco democratico perché ovviamente chi ha tanti soldi poi minerà di più e ovviamente si arricchirà di più ma questo è vero è vero nell'economia reale ed è vero anche nell'economia cripto se andiamo a vedere la distribuzione del wealth nel nel mondo cripto è uguale 2% dei wallet address hanno 98% della 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 ricchezza e quindi questo 2% può decidere da l'oggio domani il corso di qualunque cripto non so se ti ho risposto però se sei curioso c'è un sito che ti dice ti dice which coin to 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 grazie alessandro io adesso se sei d'accordo lascerei spazio alle domande c'è luca bianchi che ha alzato la mano digitale e quindi vai sì volevo aggiungere due considerazioni alla prossima presentazione la prima vi racconto un'affare molto velocemente sul tema del mining ho conosciuto qualche anno fa un gruppo di persone che faceva mining in Italia lo facevano nelle avevano un accordo con le centrali idroelettriche della Lombardia e avevano le macchine all'interno della centrale idroelettrica così che usavano sostanzialmente la parte di discarto dell'elettricità avendo quindi un costo più basso e avevano delle macchine avevano delle vasche in olio in cui tenevano le schede immerse quindi comunque con parecchio investimento nell'arco di due o tre anni nel fine 2019 non ho lasciato perdere perché comunque non era remunerativo cioè quando proprio gli andava bene arrivavano in pari perché comunque alla fine il costo dell'energia elettrica in Italia è importante e quindi questo è giusto un esempio mentre la considerazione che volevo fare su questo grafico è dal punto di vista tecnologico è molto interessante perché se andiamo a vedere la tecnologia sottostante cambia molto la mappa nel senso che a questo punto la tecnologia di Ethereum quindi la IWM è alla base di buona parte dello schema di destra e questo è molto interessante perché se noi guardiamo sia tutti gli Ethereum token ma che anche la stessa AVAX piuttosto che BNB cioè tutte quelle blockchain che sono Ethereum compatibili in qualche modo e che quindi di fatto usano la stessa virtual machine che è quella di Ethereum delinea un ecosistema dal punto di vista tecnologico dove Ethereum la fa veramente la padrone il che non vuol dire che sia l'unico ci sono alcuni da tenere sott'occhio Solana, Polkadot giusto per non far nomi però diciamo che ad oggi Ethereum è di fatto il per punto di vista tecnologico il competitor di Bitcoin come livelli di adozione e come diffusione e su alcune cose ad esempio il fatto di essere tour incompatibile Ethereum ha dei punti in più e questo è di poi ancora senza altro tra l'altro la prossima volta parlando di Ethereum vedremo appunto il fatto che Ethereum ha abilitato la generazione dei token perché di fatto oggi iscriversi un IR CD20 è molto più facile mentre invece qua non ce la fai cioè puoi fare dei cloni puoi fare Litecoin puoi fare altre cose però sono dei nuovi network mentre invece qua sulla rete di Ethereum può girare qualunque altro token e oltretutto ti dà cioè ha un set di istruzioni molto ampio che ti consente appunto di creare delle transazioni automatiche per trasferimento di riserva di valuta da un wallet all'altro all'accadere all'accadere di un determinato fenomeno ecco fino adesso tra l'altro abbiamo parlato solo di blockchain beh in realtà poi ci sono i puristi che dicono le uniche blockchain sono quelle per missionless no? nel senso che quelle dove vediamo vedi quindi oggi guarda combinazione stavo parlando con un gruppo energetico che ha detto che appunto per il progetto delle comunità energetiche hanno messo in piedi dei light node dove praticamente ogni contatore è un light node che inietta una transazione che praticamente è il consumo o in più o in meno e gli ho chiesto appunto ma è una la blockchain è permissioned o permissionless è permissioned volevo dire allora non è un blockchain però mi sono mi sono zittito perché poi sai temai per leggersi perché età esiste comunque è una rete che è controllata c'è un ente centrale che lo controlla alla fine per cui in un modo in un altro mentre queste sono veramente reti permissionless perché chiunque può essere un attore del modo più che altro diciamo che senza entrare nelle guerre di religione ma perde un po' il senso cioè vai a portarti in casa è una complicazione comunque di fatto stiamo parlando di sistemi che sono mediamente più complessi rispetto a quello che era lo web 2.0 a parità di funzioni cioè se io voglio fare la stessa cosa che facevo che faccio sul web 2.0 voglio farla sul sistema decentralizzato devo far fronte a una complessità maggiore avendo molti meno vantaggi perché comunque alla fine c'è sempre qualcuno che può decidere chi partecipa al consult e chi no il consult è un pulso sempre piccolo cioè la forza grossa di Ethereum ma anche di Bitcoin è il fatto che oggi hai bisogno di mettere in campo una del quantitativo di soldi tale per poter sperare di arrivare al 50% più uno che lo rende inattaccabile quella è la cosa se io ho un pool di 10 nodi o un pool di 20 nodi cioè diventa già saldo molto della sì diciamo l'unica cosa che frena un po' le aziende dal fare degli sviluppi sulle reti per missionless è l'incertezza sul costo transazionale se tu oggi vai a proporre qualunque cosa che possesse non so poi magari più avanti se volete possiamo anche parlare di applicazioni per non so per il controllo di filiera piuttosto che per la veridicità per gli NFT stessi ovviamente quando tu decidi di fare una transazione su rete Ethereum devi dare un prezzo al gas e se non c'è una certezza di come evolverà questo prezzo al gas non diciamo le aziende diciamo non hanno molto piacere a non sapere quale sarà l'evoluzione dei loro costi dall'altro lato devi capire quanto ti costerà la subscription al cloud di IBM per far funzionare i perlegger quindi hai con incertezza però sai che comunque un player con cui puoi parlare e puoi negoziare probabilmente sì poi tra l'altro se vai su su cloni tipo da Avax a B&B sacrifici qualcosa perché comunque non vi è molto meno decentralizzata di Ethereum però comunque hai affronte di B&B molto più basse una quadra la trovi la cosa posso portarvi come esempio un progetto che stiamo seguendo che lavora in ambito FinTech e abbiamo fatto l'ho saltato in questione ho fatto un affondo con SIA che è il fornitore di servizi per gran parte dei sistemi interbancali e alla fine si è accettato di buon grado una soluzione che vada su Ethereum B&B e come tailback su Algorand poi io non sono un fan di Algorand full disclosure detto questo se devo scegliere tra Algorand e Hyperledger tutta la vita su Algorand e poi anche italiano il fondatore quindi non sono un fan perché secondo me qualche portata su questo banco l'hanno fatto perché ogni tanto sono partiti dei picchi di non è ben chiaro quale sia la riserva di algo che hanno che ha nelle mani la foundation e quindi non è proprio non è proprio bellissimo ed ecco questa è una bella tecnologia e sta maturando lentamente ma sta maturando sia Ale che su Algorand peraltro ecco io chiederei a tutti gli altri partecipanti di farsi avanti e di se non altro darci dei feedback raccontarci qualche loro esperienza e soprattutto insomma ci piacerebbe proprio così avere un po' un po' di dialogo per cercare di percorrere assieme questo percorso che come avete visto è abbastanza accidentato c'è un gradino iniziale che Alessandro ci ha aiutato a superare però le cose sono molto più complesse di come sembrano a prima vista quando uno dice ma dai ho qua 100 euro che cavolo me ne frega provo a metterli in bitcoin le cose sono molto più affascinanti e contemporaneamente più complicate di quello che può sembrare a prima vista quindi non siate timidi lanciatevi chiacchieriamo un po' assieme e divertiamoci per questo altro seconda parte della della serata se ci sono domande potete utilizzare la chat e infatti ne abbiamo una di Jerome a cui Alessandro darà subito risposta magari leggi prima la domanda così chi non è la chat può vedo anche due mani alzate Francesco e Roberto allora vediamo un attimo nella chat cosa c'è allora si bene molto chiaro tutto bene cosa succederà ah no allora 21 milioni e Achille la tartaruga nel senso che non ci si arriva ci si arriva in maniera sintottica perché il 21 milioni allora quando perché è stata creata questa riserva iniziale perché ovviamente al blocco zero non c'era moneta in circolazione quindi bisognava immettere della nuova valuta quello che succederà è che man mano che la Coinbase esaurirà il suo compito di far circolare la moneta il resto della diciamo i miners dovranno sopravvivere con con quello che verrà guadagnato dalle transazioni quindi qua poi bisognerebbe fare un po' un bilancio di capire quanto è guadagno per Coinbase e quanto per transazioni diciamo che questo forse da qualche parte su su blockchain.info c'è questo tipo di informazioni le slide le mandiamo quindi sì e poi invece vedevo Roberto le mani alzate che erano grazie ciao a tutti serata molto interessante io ero ero più o meno totalmente a digiuno di questa di questo tema le cripto le ho solo sentite nominare fino ad ora è interessante ad entrarsi in questo mondo giusto questo commento grazie grazie vai Roberto grazie grazie Grazie. 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 Sì, sì, tenete presente che un mempool che decide essere in funzione del fatto che Bitcoin è depresso, scusate, più che Bitcoin di Ethereum è depresso, dice ma perché non andiamo ad attaccare Luna, cioè un mempool ci mette un attimo a fare un attacco 50V1 perché comunque i nodi che minano sono pochissimi. Grazie. 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 Poi tipicamente funziona anche tutto molto come abbiamo visto nella prima slide tutto word of mouth per cui se c'è un po' di hype tutti cercano di andarci dietro. Adesso mi aspetto che nel mondo degli NFT succederà anche quello. L'altro giorno vedevo giusto una provocazione di uno che aveva fatto la foto della fontana di Trevi, l'aveva messa su un NFT, aveva detto ah vivendo il diritto, tenete presente che è quello che faceva Totò quando vendeva la fontana di Trevi all'americano, no? Quindi era molto bello perché era molto ficcante come parallelo perché dice io non ti sto vendendo l'asta, ti sto vendendo una foto che non sai neanche se l'ho fatta io quella foto. Quindi cioè io poi sinceramente quando vedo anche non so quello che si è comprato uno yacht su Metaverse per 650 mila dollari e sembrava un ferro da stiro tra l'altro quello yacht. Lì ho detto boh forse mio figlio lo disegnava anche meglio. Ma allora c'è il problema grosso che moltissimi di questi soggetti sono vested in crypto talmente tanto che piuttosto che dire che venderle e fare redeem in fiat preferiscono investire in qualcos'altro e allora si permettono anche di buttare l'equivalente di se... Sì il problema è quando poi esci dal sistema, non sai che quelli che hanno veramente fatto cioè... Allora i primi ovviamente sono entrati quando le crypto non volevano niente, fanno gli holder o holder come dir si voglia e però gli altri che invece ci vengono accalappiati Cioè veramente si arriva quasi a dei livelli di schema Ponzi eh per cui... Eh grazie a voi. Bene se qualcuno vuole aggiungere qualcosa magari ci racconta quali sono i suoi approcci con questo mondo ma proprio così a chiacchierata libera benvenga così sentiamo qualche voce nuova. Non siate timidi. No anche se avete qualche interesse particolare. Poi io ho molti contenuti perché appunto dal 2017 abbiamo fatto diversi incontri abbiamo parlato di anche dell'energia no? Il discorso energetico non solo di quante energia serve per la blockchain ma anche per cosa può fare la blockchain per il mondo energetico piuttosto che per il mondo della certificazione di filiera. Ci sono tanti ambiti interessanti che si possono andare a esplorare. Non so l'altra cosa se qualcuno interessava al trading eh una persona era venuta a parlare degli algoritmi genetici applicati ai segnali di sell e buy. Ha dimostrato che eh aveva fatto un portafoglio con un discreto rendimento utilizzando appunto un algoritmo che andava a dare segnali di buy e sell sulle principali cripto. Purtroppo poi non no. Non particolare. Beh sull'arbitraggio so che si parlava di arbitraggio sulle varie piattaforme e sui vari exchange no? Magari una cosa che sarebbe interessante è ho visto l'altro giorno che eh sta per essere messo un decreto per cui tutti gli exchange che operano verso l'Italia, ovviamente anche dall'estero perché non c'è nessun exchange in Italia, ancorché non so, era trading fondato da italiani ma sta a Malta. e stava passando un anno sul 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 C'è un valore direttiva mica che dovrebbe arrivare prima o poi dalla comunità europea e un giro di vite se lo aspettano un po' tutti, anche perché sai, obiettivamente sei entrato nel 2013, hai preso dei bitcoin quando te li lanciavano dietro, se guardavi la dv sul sito web, oggi vuoi uscire con qualcosa che ha un valore monetario, la domanda è che se questa cosa è poco tracciata o poco sottoposta a sorveglianza, il rischio è che questa cosa si trasformi in evasione o illusione altissima. Questo è il primo giro di vite che daranno e infatti è possibile che in qualche forma, quantomeno sugli centralizzati, si arrivi a qualche KYC. La stessa Binance, giusto per non far nomi, un paio d'anni fa, un annetto fa, ha messo dei vincoli forti al KYC, cioè mentre prima tu ti facevi l'account su Binance, danno l'indirizzo mail e transavi quello che volevi, pagando con carta di credito e poi girandolo come volevi, adesso ti dicono che per portarvi a più di 8.000 euro devi comunque aver completato il processo di riconoscimento, quindi loro devono sapere chi sei, avere un tuo documento registrato e via dicendo. Quindi adesso hanno aperto tutto, ecco. L'altro giro di vite è sul discorso dei token. Questa è già una normativa vigente. Se fai un progetto crypto dove il token si configura, non con un click token ma come strumento finanziario, cioè la cosa che adesso va tanto di moda nell'ambito DeFi che è il revenue share, cioè io ti do una percentuale, detieni un token, io ti do una percentuale delle fee che vengono pagate quando le persone scambiano dai verso quel token. Questa cosa qua configura quel token lì come un token finanziario e quindi teoricamente poi separiamo tra legislazione e l'enforcement della legislazione, ma teoricamente tu quella cosa la puoi fare solo se hai una licenza bancaria. Poi ad oggi non esistono strumenti di empowerment, però attenzione, cioè nel senso che intanto che questa cosa la fa l'avatar del gattino su Discord, tutto sommato non sai chi è, ma nel momento in cui questa cosa diventa in qualche modo nota, arriva la SEC. Cioè i tizi di Olympus, giusto per non far nomi, si sono pigliati una bella stritta perché, sai, hanno messo insieme un bel giro del fumo di una treasury di svariati milioni, con il risultato che adesso di fatto stanno operando come se fossero una banca. e notizie dell'altro giorno, settimana scorsa, la SEC ha iniziato a dire che iniziavano a guardare dentro a questi progetti di DeFi per capire se sono effettivamente compliant. Spoiler, non lo sono. Tu vuoi proprio buttare del sale sulle mie tariffe, sei veramente una brutta persona. Grazie a tutti. Altri commenti? Quindi, prossimo di cosa parliamo? Ma il prossimo come tema volevo appunto parlare di Ethereum, di ICO, a vedere appunto l'Ethereum Virtual Machine e ancora mettere le mani sotto il cofano e vedere un po' la parte Ethereum. Sì, ho mandato una specie di bozza di locandina che ovviamente è rigorosamente in beta, quindi se ci rendiamo conto che il percorso ha bisogno di soffermarsi e di approfondire alcuni aspetti, possiamo tranquillamente cestinare la locandina e fare una versione 2.0 aggiornata. Ma la prossima non è martedì prossimo? Martedì prossimo affronteremo sicuramente Ethereum perché oggi abbiamo parlato con un focus, con un'attenzione a Bitcoin perché è il primo, perché ha la capitalizzazione di mercato più grande, tutto quello che vogliamo, ma sicuramente il numero due è Ethereum. Ethereum ha soprattutto, come Alessandro ci ha già un po' anticipato, degli aspetti tecnici decisamente più succulenti e quindi sicuramente potremmo soddisfare il vostro palato per capire meglio come funziona questa grande innovazione quando appunto il Vitalik si è inventato questa cosa. Poi ci piacerebbe avere sempre più possibile un vostro riscontro perché se abbiamo chiamato questa nostra avventura percorso è proprio bello se anche chi cammina con noi ci dà feedback. Quindi come avete capito abbiamo un approccio piuttosto informale alla chiacchierata, quindi martedì 8 parleremo appunto probabilmente del mining e affronteremo il 15 la creazione del token con Roberto Navoni. Scusami Dino, l'8 è oggi? No, allora scusate ho fatto casino tanto per cambiare perché ho aperto la slide a metà, quindi il 15 febbraio avremo la parte 2 e quindi il prossimo martedì parleremo di Ethereum e andremo avanti con Alessandro Leona. Per martedì 22 febbraio sarà il turno di Riccardo Codivilla che invece parlerà della parte psicologica, la parte di finanza del mondo delle cripto. L'8 di marzo, attenzione, io e Pier vi racconteremo le nostre esperienze, ma sarà poi una chiacchierata molto estesa, quindi anche Roberto Navoni ci racconterà la sua invece punto di vista di mining, per poi prenderci per mano e per due o tre incontri vedere proprio la creazione di un token e vedremo il frontend di questi token con Luca Bianchi e concluderemo probabilmente, se non ci viene voglia di estendere ulteriormente le analisi, con martedì 29 marzo affronteremo il mondo della DeFi e vedremo un po' tutti gli aspetti più strani e bizzarri, ne parleremo strada facendo ma parleremo degli NFT, vedremo le cose strane e il metaverso e tutti gli aspetti che caratterizzano un po' l'evoluzione di questo scenario. Questo è un po' il menu, è un menu soggetto a variazioni sulla base di quello che il nostro cuoco riuscirà a trovare strada facendo. Ecco, proprio per questo motivo, se magari riuscissimo ad avere per i primi di mano, prima di entrare proprio negli aspetti tecnici, un feedback sulla composizione dei partecipanti e qual è indicativamente il livello tecnico atteso in modo da poter attarare, sicuramente per il mio intervento, immagino anche per quello di Roberto, il livello di complessità, perché comunque stiamo parlando di due interventi da due ore e vorrei evitare di entrare e perdermi in troppi dettagli se comunque su certi temi di programmazione non tutti sono ferratissimi o dall'altro lato di annoiare le persone che sono lì e dicono vabbè, ma spero qua l'ho vista all'elementare e adesso facci vedere qualcos'altro. Quindi se magari riusciamo a fare un mini sondaggino o qualcosa per capire a livello a grandi linee il livello in ambito programmazione, il livello atteso, riusciamo anche a tarare meglio gli interventi, ecco. Porca miseria, gli stavo per dare l'indirizzo del mio wallet e eri lì che dico Grazie Grazie Perfetto, quindi se avete suggerimenti, avete reclami o cose di questo genere non esitate a scrivere se ne avete voglia sul forum appunto di Telegram o altrimenti in modo più normale su segreteriachiocciolacompiviter.it abbiamo bisogno dei vostri feedback, dei vostri commenti e soprattutto del vostro supporto per far sì che questa nostra idea e questa nostra iniziativa possa avere successo e soprattutto soddisfare le vostre aspettative. Siate affamati di idee, di domande, non esitate appunto a comunicare con noi perché solo se la cosa diventa collaborativa e bidirezionale allora sì che ci si diverte davvero. C'è una domanda di Francesco Allora, ciao a tutti Prima di tutto voglio ringraziare per la presentazione di Alessandro che è stata a parer mio fantastica perché io sono entrato in questo mondo diciamo in lieve ritardo perché ho iniziato ad approfondirlo verso marzo e vabbè da marzo ho continuato fino ad ora ad approfondirlo con gli argomenti dei file, NFT e tutto però devo dire che questa presentazione qua mi ha aperto un altro mondo e approfondito molto i livelli tecnici del bitcoin e appunto per questo vorrei chiedere dato che bitcoin come livello tecnico, come idea è più una riserva di valore appunto più che un pagamento perché la faccenda di El Salvador perché El Salvador ha deciso di renderla una valuta legale? Che senso aveva? Perché non prendere un'altra criptovaluta? Ma sai poi bisogna un po' vedere quali sono un po' i costi transazionali perché poi molti di questi paesi hanno deciso di utilizzare le criptovalute perché hanno dei livelli di inflazione tali per cui anche i costi transazionali sono irrisori rispetto alla perdita di valore sono dei paesi dove tu prendi uno stipendio e il tuo stipendio dopo due mesi ha un potere d'acquisto che è il 50% per cui puoi accollarti anche dalla possibilità appunto di pagare dei costi transazionali adesso poi non è che ho seguito più di tanto le evoluzioni dei costi transazionali però c'è un livello minimo per cui oggi pagare un caffè col bitcoin probabilmente non ha molto senso perché hai dei costi transazionali più elevati del sottostante però su determinati tipi di transazione può ancora aver senso poi le decisioni geopolitiche sono ovviamente c'è sempre la scommessa che con le side chain con le evoluzioni che il numero di transazioni che puoi infilare dentro un blocco possono crescere quindi queste sono probabilmente delle prospettive di lungo periodo che ti dicono ma probabilmente può anche essere una moneta transazionale quindi sinceramente io vedo molto di più il discorso di riserva di valore che non come questo soprattutto per bitcoin per altre crypto tipo litecoin o altri può avere più senso anche usarla come moneta transazionale più che altro l'ho visto molto come un azzardo perché hanno fatto praticamente all in subito che stava a 46 milioni non mi ricordo e ora è quasi in bancarotta ora vabbè sta risalendo ma è un altro discorso però hanno messo tutto subito secondo me anche senza informarsi molto perché alla fine l'informazione in questo settore da quello che ho percepito perché nella mia scuola sono venuti a parlarmi di finanza e di tutto e dicevano che il bitcoin era una truffa senza minimamente andare neanche nella spiegazione di niente cioè non sapeva niente quindi sai se è una truffa vallo a dire a quelli che ci hanno investito no sicuramente infatti io con questo tipo quando l'ho già litigato perché già litigato no però ho detto guardi secondo me non è così perché c'è questo e questo e quest'altro ma sai poi c'è anche allora tieni conto che anche nel mondo bitcoin si dice ci possono essere allora tutte le transazioni sono tracciabili sono anonime ma sono tracciabili tu puoi andare editando la blockchain andare a vedere dove vanno i flussi monetari poi ci sono i bitcoin mix per cui se tu vuoi finanziare terrorismo o frodi lo puoi fare perché di fatto finché non c'è il green listing dell'indirizzo dei wallet chiunque rimane anonimo però detto questo anche nel mondo money transfer che è controllato puoi finanziare tranquillamente anche lì terrorismo non è che per il fatto che sia decentralizzato deve essere per forza anonimo deve esserci l'ennesima silk road poi sai tipicamente se c'è un modo per sfruttare un sistema lo si trova sempre detto questo gran parte delle transazioni che avvengono nel mondo bitcoin sono transazioni legittime di exchange che fanno poi appunto che creano un libro di bid ask dove la gente si scambia queste cripto contro fiat o contro altre cripto quindi adesso poi dubito si sente parlare di quelli che si comprano il palazzo, la casa, cosa però secondo me sono più delle butate io ho pagato una pizza, una birra a roveretto perché lì c'è la cripto valley perché ci sono tantissimi ATM dove puoi ricaricarti il wallet mettendo la fiat e ricevendo le cripto semplicemente ci hanno creduto hanno fatto una cripto valley non so neanche più se siano ancora attivi quei bark che accettavano i bitcoin come pagamento poi grande problema andavi lì a cercare di pagare poi non ti prendeva il wifi quindi non riuscivi a pagare senti prenditi 20 euro e non mi rompia le scatte ora c'è la ci sono tutte queste carte delle varie cripto.com Binance eccetera che ti aiutano sì è stata anche la carta di un tempo c'era la carta di Monero che era addirittura anonima però oggi è vero una carta anonima penso che sia anche illegale quindi ci sono infatti queste cripto è proprio una stretta su quel mondo perché poi dopo magari la prossima volta vi faccio vedere una slide dove si fa vedere anche tutte le truffe che sono state fatte nel mondo nel mondo cripto però stiamo parlando di niente rispetto a Madoff rispetto ad altre grosse truffe perché è tutto attenzionato questo mondo ma stiamo parlando di una puzzetta perché sono 1900 miliardi di dollari quando c'è un mondo dei derivati che vale migliaia di volte tutti gli asset reali che esistono sulla Terra e quel mondo lì è assolutamente molto più fumoso di come diceva il lupo di Wals i fugasi che diceva che va e viene e alla fine è così c'è un mondo che è più facile attenzionarlo è più difficile da controllare proprio perché è decentralizzato però quando poi controlli i bocchettoni di ingresso è facile che tu possa appunto limitarne la la crescita in un senso o nell'altro sì tra l'altro sul discorso di San Salvador ho un'opinione premesso che è un'opinione e che non sono un esperto di flussi monetari ma lì secondo me è molto legato alla scelta politica di cercare di sganciarsi dall'economia che è fortemente legata al dollaro cioè il problema di San Salvador è che nel momento in cui gli Stati Uniti tagliano i tassi di interesse loro piangono e così come Puerto Rico così come altre altre nazioni questa mossa è una mossa molto bold con cui loro dicono va bene se devo scommettere la mia vita non la scommetto sul fatto che Biden decida di fare guerra o meno all'Ucraina ma la scommetto sul fatto che qualcuno compra o no i bitcoin però non ci vedo più di questo sul discorso vi racconto invece una storia che mi ha raccontato un amico trader è successo qualche anno fa giusto perché poi è molto molto storytelling sul fatto che oddio il mondo è pieno di truffe e invece il resto della finanza è tutto bello pulito allora collocamento bond warrant scusatemi warrant MPS devono rifinanzare MPS e collocano questo warrant a un prezzo di sconto rispetto al valore di mercato ed è il warrant due parole molto semplici tu ti impegni a comprare oggi un titolo che potrai esigere a partire da una certa data lo compri a sconto e di fatto sta scommettendo sul fatto che l'andamento poi salirà dato che c'era un forte sconto è un prodotto molto interessante MPS come sapete è un piccolissimo problema di buco da coprire e quindi deve rifinanziarsi sbagliano nel prospetto che mandano pubblicano sbagliano la tipologia di warrant esistono due tipologie una dove tu dici che puoi vendere quel warrant a partire da una certa data l'altra dove tu dici che puoi vendere quel warrant fino a una certa data come capite la differenza è sostanziale perché se l'azione oggi vale 5,60 euro io compro un titolo su quell'azione a 3 euro e ho un vincolo che posso venderla a partire dai prossimi 18 mesi vuol dire che io devo tenermi in saccoccia sperare che non scenda sotto i 3 euro e poi guadagno la differenza rispetto al valore di mercato nell'altra modalità di warrant io invece posso prendere e venderla subito sbagliano a fare il prospetto il che vuol dire che chi ha scritto il contratto ha fatto un errore dal punto di vista legale la risposta è fattacci vostri mandano fuori questo prospetto ovviamente molti trader si tuffano a pesce cosa fa di vestire legge i documenti capisce dove chiuta e si butta dentro aprono le contrattazioni iniziano vedono che iniziano a vendere ce li bruciano via a una velocità impressionante questi warrants e al tempo stesso vedono anche che il titolo inizia a crollare perché i trader cosa fanno comprono e vendono comprono e vendono comprono e vendono e vendono a quel punto vengono sospese le contrattazioni mosse assolutamente legittime la borsa italiana lo può fare ma poi succede una cosa un po' meno legittima borsa italiana fa il rollback soltanto di una parte della transazione della parte di vendita quindi nota bene tu hai un contratto che hai sottoscritto contratto legalmente vincolante da ambo le parti quindi io trader tu banca siamo entrambi vincolati a quel contratto il contratto mi ha il diritto di comprare e di vendere il sistema gestore della borsa prende quelle transazioni metà le annulla l'altra metà le tiene buono questi trader c'è gente che si è trovata bloccata 20-30 mila euro come ridere se non anche cifre più grandi semplicemente perché perché borsa italiana ha deciso che si fa così io gli ho detto scusami ma su una cosa del genere cavolo impugni il contratto sì e cosa fai vai fare causa alla borsa gli unici che potrebbero farlo sono gli istituzionali ma gli investitori istituzionali hanno tutta la convenienza a stare zitti perché oggi a me domani a te conclusione le scufe non sono solo nel mondo cripto si sponde un portone e se ne vediamo le dimensioni sì sì proprio dopo il 2008 si parlava appunto del bailout e quindi c'era c'era questo questo articolo che ha dato il via appunto beh se non l'avete mai visto ve lo ve lo consiglio c'è un film molto bello che racconta un po' la storia del del 2008 è The Big Short adesso non chiedetemi la traduzione di titolo in italiano credo che sia la grande scommessa o qualcosa del genere comunque è molto bello come racconta la storia in pratica dei 3-4 fondi di investimento che hanno scopertiato la bolla del 2008 e vi rendete conto soltanto guardando quelle due ore di film di quanto cioè la finanza siano castelli su castelli su castelli e tutto che poggia su un piccolissimo filastrino molto fragile ma guarda se la trovo c'era una slide che ti faccia vedere proprio il confronto su tutte le truffe del DAO stesso forse adesso forse non hanno messo i due sudafricani che si sono sifonati qualcosa come 70 billion di bitcoin però non so neanche che fine abbia fatto quella storia lì quell'exchange sudafricano però betfinex betfinex che hanno chiesto il riscatto allo stato della california e poi sono andati a convertire i bitcoin su coinbase e tipo un minuto dopo perché coinbase è la sede legale negli Stati Uniti un minuto dopo l'NSA mi ha bussato la loro porta e le ha aggrazzate perché poi ci sono anche i geni ma invece quelli del del token squid game che si hanno notizie non so se avete notizie della se conoscete il fatto che c'era questo c'era appunto la sede di squid game e hanno deciso di creare di creare questo token soltanto che si poteva soltanto comprare e non si poteva vendere e quindi c'era il grafico che era solo verde e continuava a salire 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 alla fine hanno hanno tolto tutto e sono scomparsi però non ho più non ho più informazioni su questo si beh può capitare beh c'è un certo c'è un certo sifu che se n'è andato con una tre è quello di wonderland è certo e infatti ora chissà come si evolverà con daniele che sta cercando di dice che vorrà ripagare tutto lui ma ormai la credibilità l'ha persa secondo me si beh tra l'altro come dimostra quella storia il il grosso di questa gente sia quelli buoni che quelli cattivi sono avatar di gattini o o di o di robottini colorati o dinosauri quindi chi c'è dietro il più delle volte non lo sai nel bene o nel male cioè nel senso adesso non parliamoci anche chiaramente ci sono dei casi e dei contesti dove il fatto di sapere chi c'è dietro una certa transversione mette a rischio la vita della persona cioè noi viviamo relativamente in un in un mondo in cui tutto sommato le cose funzionichiano poi ci vengono fuori certe forcate vengono fuori certe trucche ma ci sono delle zone del mondo dove cioè rischi la pelle per molto meno e quindi bitcoin e le transazioni su bitcoin hanno sentito un scudo non indifferente l'altra cosa che non dobbiamo dimenticare è che ci sono un miliardo di persone in questo mondo che non possono in nessun modo accedere al credito cioè semplicemente non hanno modo di andare in una banca perché vivono in zona del mondo in cui non c'è nessuna banca che accetterebbe i loro soldi o che gli darebbe un conto corrente nulla gli vieta di aprire un wallet e di trasferire i soldi quindi nel bene o nel male sono strumenti nuovi sono strumenti che possono e che hanno stanno avendo un impatto molta sperimentazione alcune cose in buona fede non ho problemi a credere che anche quella di Daniele fosse in buona fede e poi magari gli va male perché ha trovato il suo sbagliato alcune cose in mala fede la cosa secondo me interessante è che c'è molto fermento e che è il classico scenario in cui prima o poi qualcosa di significativo lo lo